Via Libere e Matrimoni in Puglia senza obbligo di mascherina arriva dopo circa tre settimane di lavoro il piano per far ripartire i matrimoni redatto da un comitato tecnico-scientifico costituito dal governatore di Puglia Emiliano. La task force, composta da membri del settore, ha redatto regole e comportamenti per la ripresa delle attività di ristorazione, tra cui pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ma soprattutto wedding e intrattenimento. Proprio sui matrimoni è stato posto l'obbligo della mascherina solo per il personale di sale e della cucina, eliminata per gli invitati. Resta la misurazione della temperatura tramite telecamera termoscanner, nessun limite sul numero di invitati e i balli saranno consentiti all'aperto senza restrizioni. Ora bisognerà attendere la vidimazione con lo palco ed Emiliano e poi il tutto sarà reso pubblico in conferenza stampa, anche le modalità del famoso bonus regalo promesso dal governatore di Puglia. Non ci resta che attendere e sperare che qualcuno non rimandi al 2021 il proprio matrimonio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.